Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. C'è area di crisi nell'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto. Una vera e propria rivoluzione sarebbe in procinto di scoppiare nella giunta del sindaco Antonio Spazzafumo. La delibera relativa al bilancio consolidato della Picena Ambiente ha creato un vulnus fra la maggioranza e soprattutto da parte di San Benedetto Viva con in testa il consigliere comunale Giorgio De Vecchis insieme al gruppo di Rivoluzione Civica. Un atto che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale di fine settembre. Ma gli effetti di questa alzata di scudi determinerebbe un autentico tsunami in comune. Circole infatti la voce in un possibile ribaltone con passaggi in maggioranza di tutto il centrodestra per così mettere all'angolo i dissidenti. Secondo i rumor che giungono a Palazzo e Viale di Gasperi iniziati a circolare già nella giornata di venire al discorso sulla graticola ci sarebbero il vicesindaco Antonio Capriotti e l'assessore ai servizi sociali Andrea Sanguilli. In pool position ad entrare in giunta ecco il consigliere della Lega Lorenzo Marinangeli, surrogato poi in consiglio da Pasqualino Marzonetti e Andrea Traini dei Fratelli d'Italia il cui posto potrebbe essere preso dall'ex assessore Pierluigi Tassotti. Ma secondo i ben informati ci sarebbe un vero e proprio rimpasto di giunta con all'angolo i dissidenti Simone De Vecchis, Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci, Giselda Mancaniello, Barbara De Ascanis e Cinzia Laghi che guidano l'opposizione della delibera sulla Picena Ambiente con il centrodestra però pronto a subentrare. Un'operazione che potrebbe essere messa in pratica dopo le politiche di domenica 25 settembre con i tempi che sono estremamente ristretti.